Musica Sociedade civili questiona Presidente della Repubblica, Francisco Guterres Luolo, che continua a servizio, ma che declara una atto recandidata per Presidente della Repubblica. Diretor Ejecutivo Lutra Hamutuk, Zuzia Alves da Costa Teten, l'olos ne ato al Presidente della Repubblica tenk kiresigna anona, usine a cargo, tambah halon deklarasan ofisial ato kandidataan per Presidente della Repubblica per iuditinen rungroa ruanul singh rua totinen rungroa ruanul singh hitu. L'olos Presidente della Repubblica sedau kebelet deklaran linea an ludar kandidata da Hodi Kompeti A2022 tambah ATA data sedau che ha informazione rungro Presidente della Repubblica atto resignano se ne ha cargo nu atto halon falo politica per iuditinen rungroa per iuditinen rungroa nel processo per iuditinen rungroa nodar Presidente della Repubblica non most nodar Presidente del Partido ne bema assumi cargo ato a data sedau questo Partido Politico Raccic Liliu Fretelin sedau calo conferenza rungroa Hodi anuncia se ne ha capace candato Presidente della Repubblica per iuditinen rungroa per iuditinen rungroa per iuditinen rungroa Presidente della Repubblica, Francesco Guterresolo, Presidente della Repubblica italiana, Francesco Guterresolo.